Addio Antonella Clerici. L'annuncio di Anna Moroni scuote il pubblico. Benvenuti su Reality Italiano, non dimenticate di lasciare un mi piace, seguirci e attivare la campanellina per non perdere nessuna notizia. Antonella Clerici ed Anna Moroni. Celebri conduttrici televisive nel campo culinario, hanno collaborato per molti anni, portando il pubblico a casa nel magico mondo della cucina. Moroni è stata il braccio destro di Clerici alla «Prova del Cuoco» per ben 30 anni. Ma ha annunciato di volersi ritirare a causa dei continui spostamenti tra Roma e Milano. Non voleva lasciare il marito Tonino da solo, nonostante la separazione. Il legame tra le due donne rimane forte. Poiché questa coppia ha scritto pagine importanti nella televisione italiana con programmi di cucina di successo. Clerici ha sempre avuto fiducia in Moroni, protagonista di ricette semplici e veloci. Nonostante le loro strade si separino, non si può escludere una possibile riunione nel futuro.